Ora all'andamento della pandemia, oltre 10.000 contagi per il secondo giorno consecutivo. Circolare del generale Figliuolo alle regioni, somministrazione della terza dose nella fascia d'età 40-59 anni, anticipata a lunedì 22 novembre, purché a sei mesi dall'ultima vaccinazione. Giuseppe Rizzo. La tendenza è confermata dagli ultimi dati, la curva del contagio punta verso l'alto. Il secondo giorno consecutivo con più di 10.000 nuovi casi, oggi in aumento. rispetto a ieri. La percentuale di tamponi positivi è l'1,7%, 69 le vittime. Il quadro peggiora anche per una delle categorie più esposte, medici e infermieri. Tra i primi a essere vaccinati è ora in fase di calo della risposta immunitaria. 1.300 contagiati un mese fa, oltre 3.000 adesso. Aumentano le regioni con più di 1.000 nuovi casi, oltre a Lombardia e Veneto, anche Lazio e Campania. Nella mappa europea del contagio, l'Italia è ancora tra i paesi meno colpiti, ma Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche passano nelle fasce di rischio più alto. Solo la Sardegna, in tutta Europa, resiste in zona verde. Tenere alto il livello di attenzione, chiede il ministro Speranza, quasi l'85% degli over 12 ha ricevuto la doppia dose di vaccino. Crescono soprattutto le terze somministrazioni. Nella giornata di ieri abbiamo fatto 150.000 richiami, che è un numero importante, e il richiamo è decisivo perché può consentirci una maggiore protezione, soprattutto sulle persone che hanno qualche anno in più. In arrivo una risorsa in più nella lotta al virus, anche se non un'alternativa al vaccino. Al commissario Figliolo, il mandato ad acquistare 100.000 cicli dei due farmaci orali anti-Covid. E dalla senatrice Liliana Segre, un messaggio sul negazionismo, come per la Shoah. Oggi qualcuno non ammette che ci sia un nemico invisibile. E preoccupa la situazione in Alto Adige, dove la percentuale dei vaccinati è tra le più basse di 3%.